La biblioteca di Sansepolcro ha ospitato la presentazione del nuovo libro di Stefano Canosci, Pizza Revolution. Il pizzaiolo biturgenze di origine pluripremiato della pizzeria Da Chicco di Colle Valdelsa, curioso e intrigante, il libro rappresenta una sorta di autobiografia di Stefano Canosci che racconta con passione il percorso che lo ha reso quello che è oggi, dove è partito, le figure che hanno contribuito alla sua formazione, le sue aspirazioni future, immancabile la raccolta delle ricette più importanti della sua vita per coloro che si vogliono mettere alla prova in cucina. Questo libro, ha detto Stefano Canosci, rappresenta per me la ciliegina sulla torta del mio percorso in cucina. Potersi raccontare per condividere con gli altri la propria passione è un'occasione unica. Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno creduto in me, spingendomi a dare sempre il meglio. Un grazie speciale anche a chi mi ha guidato durante il percorso. Senza di voi oggi non sarei qui, ha detto ancora. Effettivamente nel libro non mancano le menzioni speciali ad altri chef e pizzaioli come Giovanni Santarpia e Antonello Colonna, che sono solo due dei nomi citati con ammirazione. Erano presenti il sindaco della cittadina Biturgense, Fabrizio Innocenti e l'assessore Mario Menichella, che si sono complimentati per il percorso prima scolastico e poi professionale con il giovane chef Alto Tiberino.